Siamo in compagnia di un ragazzo veramente intimo, lui quando fa le feste le fa con gli amici più intimi, capito, più intimi. Gli amici che si chiamano? Andrea e Bomber Fusano Passiviva. Bomber poi? Io sono difessore. Ma tu chi sei? Io sono Bomber Pando. Ma come mai sei rimasto intimo? Mi hanno obbligato stasera al mio dio celibato e va bene così. Aspetta però partiamo da come ti chiami? Roberto. Arrivi da? Crema. Crema? E ti sposi con chi? Con Tatiana. Sì ma capito. Non è mettere la cucina, ma in un giorno. Quale chiamano? Con Tatiana. Si concentra, Roberto? Sì, sono a bazzare. Venga concentrato. Venga concentrato. Quando dirai sì? 7 ottobre. Mi hanno detto un uccellino che hai preparato le scarpe con la scritta nelle due scarpe. Aiuto. Aiuto. C'è proprio ragione, è proprio vero. Sarà dura a dire sì? No dai, non è dura dai. Guarda però l'ho fatto con uno sguardo perso. No, ma è vero, ma comunque. No, ma è vero, ma è vero. Ma cosa ti piace la tua futura moglie? Vabbè, lei è lei, mica tanti aggettivi. La futura non è lui perché se no erano... Eh, se no era preoccupante. Allora, noi ti auguriamo una bellissima sera, va a scolpire tante. Ma quando? Lui è il capitano Remo. Il capitano, forza e coraggio ragazzi. Forza e coraggio Roberto. Allora Roberto, come lo fai, bravo eh. Perché già sei rimasto in reggiseno. Se fai Monello potresti rimanere imputante, ricordi. Eh, speriamo di no. Salutare qualcuno? Ciao a tutti. E viva gli amatori e gli amici stretti. Quelli intimi più e altro eh.